Ok ragazzi, allora se avete un cane mettetelo davanti alla telecamera e dopo avergli fatto sentire questi suoni vediamo la sua reazione Quanto costa un cervello nuovo? Il cervello di un maschio costa 10.000 euro invece quello di una femmina costa 200 euro Scusi come mai quello della femmina costa così poco? Perché quello delle femmine è quello più usato